Ragazzuoli, ciao a tutti e bentornati e io come sempre vi invito ma proprio sin da subito sulla fiducia a lasciare un mi piace perché anche oggi le abbiamo mandati al manicomio E' una roba impressionante e questa qui, una partita come Juventus-Pezia con una Juventus poverina disastrata dagli infortuni, dai risultati, da tutto quanto E' stata in grado ancora una volta di portare tutti quanti a spasso nel giorno di Sanremo Cioè proprio per far capire il livello hanno preferito vedere Juventus-Pezia, cosa che molti juventini all'idea gli veniva proprio su il conato, quello importante Piuttosto che magari vedere Sanremo, loro invece hanno cercato in qualche modo di dimostrare il loro amore o per certi versi la loro ossessione nei confronti della Juventus E come al solito, per chi ancora non l'avesse fatto, dato che è fondamentale, iscrivetevi al canale per l'amor del cielo che è sempre importante Contribuire a mandare avanti la baracca con il burattino Detto ciò, dato che comunque in un qualche modo di argomenti ne abbiamo toccati, direi premessa E partiamo Ed ovviamente anche in questo caso, così come per Juve Crotone Nel prepartita alla fine ben poco da dire, anche perché veramente bullizzare questa Juventus ancora prima del fischio d'inizio mi sembra una roba particolarmente cattiva Loro non sono cattivi, non capiscono solamente un cazzo ma è un altro discorso questo qui E intanto ci entreremo nel merito tra poco, cioè nel senso giusto il tempo di fare iniziare la partita Come facciamo proprio in questo esatto momento? E che cosa succede? Succede che al settimo, fra botta, plana in sostanza su Vignali, se non sbaglio L'arbitro estrae il cartellino giallo La cosa bella di quel determinato episodio è che, quattomeno a presa diretta I giocatori dello Spezia si sono incassati con l'arbitro non tanto per l'ammunizione Ma perché non ha fatto proseguire l'azione Questo solamente per far capire un attimino la brutalità dell'episodio in sé E appunto, però, giustamente nel momento in cui l'arbitro tira fuori un cartellino giallo Dai, come si fa? Giallo lo poteva uccidere, quindi avrebbe preso l'omicidio colposo Ma con un'ammunizione, perfetto Tornati in cameretta, su Sì Perché effettivamente se uscendo in livello è questo, conviene tornarci Ma è che prima di subito Un criminale Hashtag fra botta, giustamente Ma tanto nel momento in cui gioca nella Juventus Nel senso, non si scopre di certo l'acqua calda, voglio dire, no? Eh, ma l'importante è respellere Coulibaly a Firenze I ladri Beh, direi di sì Chiaro occasione da gol Ultimo uomo Fuori dall'aria di rigore Se non è rosso quello, tesoro mio Poi posso capire che dopo che ha parlato Orsato tre giorni fa La memoria ritorni a quel maledetto scudetto perso in albergo Però pure tocca farsene una ragione, povera Stellina Al massimo io ti posso dare una carezza Ma più di quello non posso fare Lo scudetto sto c***o che te lo ridò con tutto il bene del mondo sempre, eh? E poi la cosa veramente impressionante del livello di questa gente E che poi se ne vanno proprio anche a studiare, no? Vanno a ricercare degli episodi simili Come quello accaduto in un derby E poi tutti felici, tutti fieri, tutti contenti Vanno a pubblicare i video su Twitter Come per esempio questo ragazzo qui Che scrive prima due pesi Mettendo solamente il video dell'entrata di Frabotta E poi successivamente posto un altro video Scrivendo anche due misure Mettendo l'intervento che fece Baselli su Pjanic Solo che qui manca un piccolo dettaglio Perché il ragazzo all'interno del video Fa vedere l'arbitro che estrae il cartellino rosso Se non fosse che è stato tagliato il video Di quando l'arbitro estrae il secondo cartellino giallo Ed è questa qui la cosa che poi ti fa dire Cioè ma veramente il livello è questo Veramente gli onesti, i puliti, i puri, i candidi Quelli che sono lì sempre a cercare di contrastare il palazzo Mettendo alla luce tutte le magagne Si vanno a perdere in robe di questo genere Per assecondare un loro pensiero momentaneo Vanno a prendere un episodio simile E ritagliano il momento in cui l'arbitro estrae il secondo cartellino giallo Facendo vedere solo quando estrae il rosso Per dire ecco vedete che in quella circostanza era stato dato rosso Cioè il vostro livello è questo qui Né più né meno La Juventus sta giocando a rugby Gli sta facendo passare di tutto Si vede che è arrivata la telefonata per portarli al quarto posto Beh che la Juventus era già terza Ma questo rimane pur sempre un altro discorso Cioè lo capisco assolutamente il tuo discorso Se non fosse che ad esempio poi vai a vedere il numero di falli E il numero di ammunizioni E vedi che lo Spezia ha fatto praticamente lo stesso numero di falli della Juventus Ma non ha subito neanche un'ammunizione La gestione dei cartellini quest'anno ha preso un attimino un anno sabatico Che cosa ci vogliono fare? Nulla E poi ovviamente accade che la partita va avanti La Juventus sicuramente non brilla Poi però nel secondo tempo trova Il gol dell'1-0 E proprio come in occasione di Juve Crotone E ne abbiamo parlato comunque una settimana fa Poco più di una settimana fa Il VAR dopo un pochino di tempo che rivede le immagini Decide di convalidare il gol alla Juve Una goduria ragazzi scusatemi per carità Quindi entriamo nel merito Entriamo nel merito subito dell'argomento per l'amor di Dio Doppio fuorigioco di due metri ma non fanno vedere il replay Come se Morata contasse qualcosa Penso che in quel caso conti più che altro la posizione di Bernardeschi Non quella di Morata che non riceve il pallone Però posso capire che qui si stia parlando con della gente di un certo tipo Quindi è sempre meglio specificare tutto quanto La cosa importante è che anche il gol di ieri era in fuorigioco E va benissimo Poi ovviamente fanno rivedere le immagini del VAR Ma ovviamente quelle lì non contano Anzi, anzi, alimentano i sospetti Lasciatemi dire Sopra, VAR Pallone sembra già partito Sotto, pallone ancora attaccato al piede E io vi giuro Adesso io vi lascio in grande L'immagine La stessa identica immagine che ha pubblicato questo tifoso Perché appunto è un'immagine che ho preso da lui Quindi è proprio quella lì Quella del post che abbiamo appena visto E vi prego Io ve la metto in grande Nel frattempo parlo Voi guardate attentamente le posizioni di tutti i giocatori Sia nell'immagine sopra che in quella sotto Se vedete un giocatore in una posizione diversa nelle due immagini Vi prego ditemelo con un commento Che in quel caso vi prenoto io una visita dall'oculista Perché avete un certo tipo di problema ragazzi miei Ma io so che voi siete i miei ragazzuoli E non siete come questi qui Che anche in questo caso sono talmente furbi Da mettere due immagini sicuramente diverse Perché una è l'immagine del VAR Scrinata e l'altra è l'immagine da un'altra inquadratura Presa da una foto fatta alla televisione Nonostante tutto in entrambe le foto Tutti i giocatori sono nella stessa identica posizione E ciò starebbe a significare che nel momento in cui C'è anche l'immagine del VAR Che attesta che Bernardeschi è in posizione regolare Quindi nel giro di poco polemiche smorzate no Loro sono i primi ad alimentarle Mettendo alla fine due foto completamente identiche Ma da due inquadrature diverse Ma grazie a quella meravigliosa cosa chiamata prospettiva Sembrano due immagini diverse Che fanno vedere due cose diverse Una la posizione regolare di Bernardeschi E l'altra l'offside di Bernardeschi Ma considerando appunto che è un milanista Nel senso non stiamo di certo qui a parlare con lui di prospettiva Qualcuno mi spieghi se è regolare andare al VAR Dopo che il guardalina ha segnalato fuori gioco Qualche illuminato? Ziliani probabilmente Di luminari e illuminati me ne viene in mente solamente uno Quando si parla di certe cose Ci vogliono due dirigenti Uno per squadra in sala VAR Purtroppo degli arbitri non ci si può fidare È vero Infatti guarda Io sarei stato curioso di vedere Paratici in sala VAR Inizio stagione Quando a Morata tipo ne annullavano 2-3 a partita Se un giocatore della Juve avanti di meno di 50 cm Rispetto all'ultimo difensore Il fuorigioco non va fischiato Sono le ultime linee guida Ah ecco le ultime Perché se fossero quelle dall'inizio Cioè la Juventus avrebbe probabilmente 6-7 punti in più Ma appunto sono le nuove E quindi nel senso Le apprezzo Quanto meno le apprezzo Le nuove le apprezzo Mi piacciono già di più E poi vabbè onestamente Io ragazzuoli direi di far finire la partita Perché dopo l'1-0 di Morata Il 2-0 di Chiesa Il 3-0 di Ronaldo Il rigore concesso allo Spezia Che lascia Qualche dubbio Ma fa lo stesso Perché tanto nel dubbio Non l'ha neanche buttata dentro Quindi direi di far finire la partita Direi di far finire la partita Ed è una vergogna senza fine ad ogni giornata Hashtag Juve out Hashtag Serie A fasulla Se fosse veramente così Probabilmente la Juventus sarebbe prima Mentre invece ancora è terza Quindi probabilmente del tutto così non è Perché mi avete spiegato tutti quanti Che quando la Juventus non è prima È il campionato più bello e pulito al mondo Io sono stanco di vedere queste ingiustizie Qualcuno mi può spiegare perché a questi tutto è dovuto Ma chi c***o sono? Ste merde quando la smetterete di rubare? La cosa bella è che Tesoro mio Tu non puoi parlare quest'anno Perché se un tifoso del Napoli Mi viene a dire Perché a loro è tutto dovuto Un tifoso del Napoli Dato che non vi va neanche bene la data Del recupero di Juve-Napoli Una partita che in un campionato normale Era stata già chiusa il 4 ottobre Con un 3-0 a tavolino Per l'amor di Dio Non mi parlare di a loro è tutto dovuto Ma non me ne parlare proprio tesoro mio Non me ne parlare proprio Se questo è il calcio italiano mi viene da vomitare Non sia mai non vanno Bin Champions a falliscono Può essere Da te probabilmente sono falliti Tutti i produttori di libri di grammatica Ma questo rimane pur sempre un altro disco Il messaggio rimane chiaro Questo senza ombra di dubbio Il messaggio rimane assolutamente chiaro Solita vergogna Sempre a loro Il cancro del calcio italiano Vedrete vinceranno il prossimo scudetto Giustamente questo no È giusto così La FIGC non può non darlo ai ladroni E fatta attenzione Questo qui è un tweet di risposta Sotto ad un post Di Ziliani E andiamo avanti Vergognosi Hanno rovinato il calcio Se ne sono accorti dopo decenni Potevano radiarli invece solo retrocessi di una categoria Ora sono sempre più a rubare Con il permesso di arbitri TV e stampa E anche in questo caso Così come tanti altri All'interno di questo video per carità Si parla di un commento di risposta A Ziliani Ma invece il mio commento di risposta A Ziliani Arriverà più tardi Arriverà alle 6 e mezza E anche in questo caso Vi voglio tutti quanti presenti Anche perché per quanto riguarda L'AIA Ci sarà da parlare Nel video che vedremo Alle 18 e 30 Quindi nel senso Vi aspetto Prima di entrare nel merito di Ziliani Aspetto alle 18 e 30 Perché voglio proprio fare Un video a parte Perché se uno è merda È giusto Dirglielo In faccia Non mischiandolo con i tifosi normali No Perché come sempre vi dico Questo qui È uno che ha raccontato Il calcio in tv In modo imparziale Per 30 anni Quindi appunto Se si ha la possibilità Di parlare in modo diretto È giusto farlo Io lo farò dopo Questo quindi Lo possiamo considerare Una sorta di antipasto Il video di oggi Che come sempre mi auguro Vi sia piaciuto Se così fosse Vi invito nuovamente A lasciare un mi piace E ad iscrivervi Al canale Se ancora non l'avete fatto Noi ci vediamo Appunto alle 18 e 30 Mi raccomando Non mancate Io vi mando Un grosso abbraccio E tanto per cambiare Fino alla fine Forza Juve E tanto per cambiare